Domenica avremo veramente un grande spettacolo perché sia i numeri che sono notevoli e sono al di là delle più erose aspettative, c'è anche l'aspetto proprio tecnico. Avremo presenti atleti che sono già personaggi importanti a livello mondiale. Strissoni di partenza e traguardo già pronti per essere allestiti in vista di domenica 30 ottobre quando tornerà la maratonina città di Arezzo. L'edizione di quest'anno è la numero 23 e come da tradizione l'organizzazione è dell'Unione Polisportiva Policiano, Federazione Italiana Atletica Leggera e CONI. Già oltre gli 800 iscritti alla competitiva, poi abbiamo da sommare tutti coloro che parteciperanno alla non competitiva, quindi sicuramente supereremo le mille persone in una festa di sport, ma una festa anche per la città. Molti saranno i partecipanti da fuori, quindi come sempre in questi casi si rinnova la collaborazione dell'amministrazione comunale. Già 850 gli atleti iscritti provenienti da ogni regione italiana con le punte di diamante dal continente africano, ma si punta a toccare l'eccezionale numero di 1200 iscritti. Per quanto riguarda il settore femminile avremo di nuovo la presenza della Mosetti che proprio ad Arezzo, due anni fa, tre anni fa addirittura fece una delle migliori prestazioni mondiali della mezza maratona e quindi l'avremo qui, cercherà di battere il proprio record per portare ancora più in alto questa sua presenza. Però oltre a lei ovviamente ci saranno altre concorrenti molto agguerrite, sempre dal punto di vista del Kenya, ma avremo anche la britannica che lo scorso anno arrivò a seconda lì ad Arezzo, avremo invece anche a livello maschile atleti del Kenya che hanno dei personali intorno ai 60 minuti netti, 60 e qualche secondo. Dopo due anni torna infine anche il cuore in corsa, la camminata corsa non competitiva di 3 o 10 chilometri per le scuole e aretine, ideata dieci anni fa per raccogliere i fondi finalizzati all'acquisto di defibrillatori per le scuole. A fare il punto sulla circolazione il comandante della polizia municipale. Si richiede come norma il rispetto dei cartelli di deviato di sosta, quindi i residenti sappiano che via Roma, via Crispi, l'area di via Garibaldi, quindi di San Laurentino e di Trento Trieste, ci sono le rimozioni. E il traffico sarà deviato dalle ore 9.30 circa fino alle 12.12.30 a termine della manifestazione. Quindi la polizia municipale richiede come sua abitudine collaborazione da parte di tutti i cittadini.